Non è stato un momento imbarazzante, è un momento carino. Sì, esatto, sì. Ah, vedi? Quali emozioni riesci a liberare facendo musica? Io sono una persona molto timida e introversa, quindi diciamo che con la musica, scrivendo e facendo musica, cantando, riesco a parlare di ciò che in realtà mi tengo normalmente dentro. Comunque diciamo che mi metto un po' a nudo, cosa che invece non riesco a fare magari nelle conversazioni. Allora, cantateci e suonateci un verso di una canzone che vi rappresenta al massimo o vostra o di un altro artista. Questo è un pezzo della band che ci ha iniziati alla musica, proprio è stata grazie a questa grande... Sì, che poi non la suonavamo da anni. Sì, si chiamavano The Stripes. Raccontaci quella volta in cui ti sei sentito veramente libero. È successo proprio qui a X Factor per la prima volta alle audizioni, è stato proprio il momento in cui ho raggiunto il massimo di questa sensazione. Poi libertà, secondo me, si può estendere anche un po' la vita di tutti i giorni. Mi sento libero con i miei amici, cioè nel senso sono arrivato a un momento della vita in cui le amicizie le scelgo proprio in ottica di libertà. Dove ti senti meglio. Sì, dove mi sento meglio, proprio di, come dire, esaltazione delle differenze, cioè mi sento proprio anche voglioso di circondarmi di persone super diverse da me e magari non rifugiarmi nella comfort zone per cercare persone invece che non mi stimolano. Matte. Quale canzone di qualsiasi altro artista avresti dovuto scrivere tu e perché? È una canzone di un artista fichissimo attuale che si chiama Joji, che si chiama Glimpse of Us. Bellissimo perché parla praticamente di un rapporto, non so come dire, comunque un rapporto a tre. Sì, un rapporto a tre, diciamo, dove praticamente c'è un rapporto fisico con la persona attuale, ma un rapporto fondamentale spirituale con una persona che è amato. Provate a collegare i momenti che vi elenco sotto a delle canzoni. Il vostro primo bacio. Penso che gli Arctic Monkeys è il mio favor. La prima volta. Sì, Super Sonic degli Oasis, perché mi sentivo Super Sonic. Non è stato un momento imbarazzante, è un momento carino. Un momento felice, ti dico, ancora 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 di Mina, che era la canzone preferita di mio nonna. Comunque non sembra, ma questa cosa ci ha legati molto di più. A voi? Se sappiamo robe... Grazie dure. Ci siamo abbrati. Grazie a dure. Grazie a tutti.